Grazie ad una legge dello Stato, la 717 del 49, pensate, quando si fanno dei lavori pubblici c'è una parte piccola dell'alfalto che volutamente viene destinata all'arte, all'abbellimento dell'opera pubblica attraverso un'installazione. Questo a sostegno proprio del contributo artistico all'interno delle città ed è questo quello che abbiamo fatto ed è questo quindi il grande messaggio che gli artisti Bianco e Valente che voglio ringraziare ci regalano oggi come città di Napoli. Un messaggio che rappresenta la città perché Napoli è umana, è la città dove l'umanità viene sempre prima e forse in questo momento storico è proprio un messaggio importante che da Napoli lanciamo alle altre città. Non lasciare nessuno escluso, non lasciare nessuno da solo e occuparci delle persone che sono ai margini degli invisibili. Questa è la grande sfida delle città moderne e questa quindi è l'opera che dà il benvenuto come un grande cerchio alla testa della città alle napoletane, napoletani e non napoletani che entrano attraverso Via Varina nella città di Napoli. Nessuno escluso, accoglienza, inclusione e apertura. Un messaggio che rappresenta l'identità e l'anima della città fissato in una delle sue principali porte di accesso. Questa notte sulla rotatoria fra Via Vespucci e Corso Lucci è stata installata l'opera d'arte di Bianco Valente, compresa nel progetto di riqualificazione di Via Marina. Bisogna tutelare e mantenere assolutamente questa caratteristica di multiculturalità della città di Napoli, che è praticamente un crocevia, un incrocio dove si incontrano diverse culture e vivono insieme diverse classi sociali in maniera assolutamente naturale. Rispettare il luogo, l'architettura dove noi andiamo ad adagiare l'opera, quindi non abbiamo fatto nessun tipo di aggiunta, ma abbiamo preferito lasciare la struttura così com'era, che come dici tu richiamava il gasometro che sta alle spalle. Poi un'altra cosa importante per noi è che ci sia un'interazione con le persone con l'opera, quindi l'opera è stata immaginata proprio perché lo spettatore, chi si approccia, chi la guarda, sia stimolato in una riflessione. Come tutte le opere di arte pubblica, il lavoro non è chiuso nella struttura, nella scritta che si vede, ma è in effetti un lavoro che pone un interrogativo a una persona che la guarda. Quindi siccome il senso non è chiaro, non è esplicito, collocato in questo luogo, una persona comincia a farsi delle domande. La vera opera è l'interazione fra la persona, le sue riflessioni rispetto a una scritta che vede calata in un contesto urbano. La vera opera è l'interazione fra la persona, le sue riflessioni rispetto a una scritta che vede calata in un contesto urbano.